Sì, non c'è stata una decisione di questo genere, ci sono degli aspetti anzitutto giuridici da affrontare e poi ovviamente un quadro internazionale, queste cose non si possono fare a livello bilaterale, certamente l'autodifesa è fondamentale, noi possiamo contribuire con strumenti di tipo non letale, delle telecomunicazioni, strumenti di disturbo dei radar, quanto alle armi il vertice di Roma del gruppo di contatto affronterà questo tema anzitutto per vedere se rispetteremmo o meno la risoluzione dell'ONU.